Io ci credo che non hanno accettato il suo progetto e trovo personale... Ma non è vero, l'ho ucciso, io ero terrorizzata, lei mi sforzava, lei l'ha preso un sasso e mi sono diveta! No, abbiamo trovato stamattina imbescime con il ciro! Lui ha trovato e peggiorato cose! Accendino a scarico! Vieni a vedere! Cosa c'è? E' morto! Ma come è morto? Non vado a scherzare, va pieno di morti! Vieni! Oh, cosa facciamo? Noi chiamiamo la polizia! Polizia? No, la polizia no! Aspetta! Poi pensano... Io chiamo la polizia! Poi prendiamo il lavoro! No, la polizia! Ma come fai a sapere che questo odore è tremendo tuo! Gli ragazzi capiscono il DNA? Ah! Fatto male! Cosa? No, il cimitero gli ho fatto male! Non ho bene niente! Tutto da ripare! Non l'abbiamo! No, 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 no! Gli devo dire prima fatta le file! Fabio! Cos'altro? Adesso suo figlio comanda lui! Ha maggior ragione glielo devo dire! Lui deve seguire il progetto! Guarda molto meglio il mio! Ma lui mi tocco con questo progetto suo! Questo non è un progetto! Io questa cosa la chiamo servilismo a condiscendenza! Altro che progetto! Questo è ripetizione conservatorismo! Quello vivere! Eh! Mio padre! Mio padre! Un coglione! Un invenzione totale! Credeva di dire chissà cosa quando apriva bocca! Togli il corpo che riempie la mossa! Rimane il ritmo anche senza le ossa! Non ti servono gambe né busto! Se conosci già il battito giusto! La cadenza si muove da sola! Da quest'idea viene la capriola! Forza! Balla anche senza il supporto! Non importa se ormai sei già morto! Anselmo! Anselmo! So io! So Cinegra! Anselmo! So tu moglie! E non me fa ripetere la formula magica 3.000 volte! Suo silenzio è carico di pensieri! Molto faticoso per me di ascoltare suo silenzio! Irina comincia a conoscermi un po' troppo bene! Dovrò licenziarti! Non importa! Io non posso salti! Lo piazziamo qui! No! Solo per un po'! No! Lo pulevamo bene! Il grado! A me! Lo troppo col tempo! Tu porta via! Perché è una danza macumba macabra! Abracadabra! Abracadabra! Perché è una danza macumba macabra! Abracadabra! L'ho fatto il mazzo! Eh? Il mazzo dei fiori! Come lo volevi te! Ecco! Mio figlio non sa fare niente! Non sa progettare! Perché lei dice questo? Perché questo è un ambiente troppo confortevole per un morto! L'architetto che le ha progettate si è ispirato alle tombe degli antichi! Gli egizi e gli etruschi erano saggi loro! Loro concepivano le tombe come delle vere e proprie case! Delle camere! Con l'arretamento in tutto! Con il letto, la dispensa, il bottino... Sì, ma a me queste sembrano un po' strettine però! È ovvio che non possiamo proporre un mausoleo a tutti quanti! Ma dentro questi loculi, questi locali, sono adibiti per contenere i ricordi della vittima! Pensa al ritmo di eseguilo in mente! Senza occhi e ginocchi né niente! Senza i muscoli, senza cervello! Vedrai il tuo ballo diventa più bello! Non ti devo dire la formula di congetto! Sì, la formula che può scappare i morti! Sei pronto? Vado! L'arbero a cui tendevi la pargoletta! Oh! Oh! Valentino! Ah! Territi! Ognuno sta solo sul fuori della terra trafitto! Signora, cerca uomo di stanotte perché lei stanotte con lui noi capisce bene! O fosse per me li metterei su un otto volante! Farei scorrere le varie sulle montagne russe! Salire e scendere a pregifizio! Quando mangia io non parlo! Pericoloso non aspicare parola! Parola va di traverso! Noi manda io! Parola è veleno! Sempre buttare fuori parola, mai dentro! Anche se dico cose buone! Cosa! Abracadabra! Lei è persona superba! Irina è forse colpa mia se c'è un figlio che è mio nemico! Dico, l'unico pezzettino di umanità che ha messo al mondo è contro di me! Uno! Uno su sei miliardi! Mi da calma forte! Invece anche lui si è rivoltato contro di me! E' una vera inculata l'eternità! Dai papà! Non importa che sei morto! Non importa che hai ragione che torno! Perchè è una danza macumba macabra! Abracadabra! Abracadabra! Perchè è una danza macumba macabra! Abracadabra! A presto! 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 A presto!